Un'invocazione per la pace, ma che è anche molto di più, una preghiera, un invito a convertire i cuori. È l'appello che l'Arcivescovo chiede di sottoscrivere e si potrà farlo da domenica 26 febbraio, prima domenica di quaresima, fino alla domenica delle Palme, il 2 aprile, in modo virtuale sul portale della Diocese di Milano www.chiesadimilano.it o con appositi format cartacei. Ma come si è detto, quest'appello è molto di più e va a toccare i comportamenti, il nostro essere cristiani nel profondo, in questi giorni che ci preparano alla Pasqua di Rissurrezione del Signore. Mi piacerebbe ricevere un milione di questi volantini firmati con questa dichiarazione di intenzione che dice anche l'impegno a quella preghiera che ho proposto a tutti coloro che desiderano unirsi a me, a tutti i fedeli della Diocesi per invocare la pace. Ecco, è un piccolo gesto per poter far sapere al Presidente Battarella, al Consiglio d'Europa, ai potenti, che il popolo vuole la pace, che noi tutti vogliamo la pace, che siamo disposti a pensare, a pregare, a trovare le vie, a cercare anche a sopportare dei sacrifici per la pace, che vorremmo che tutti quelli che fanno la guerra sentano il dovere di un'obiezione di coscienza, di una fortezza che resiste alla pressione, che vuole mandare la gente a uccidere la gente, mandare i frutti della tecnologia, a distruggere la tecnologia. Ecco, vorrei che ci fosse come una rivoluzione spirituale per tutti, verso la pace. E così l'Arcivescovo ha composto anche una sorta di Padre Nostro, per accompagnarci ogni giorno, secondo quanto lui stesso farà, con gli strumenti della comunicazione, attraverso il Chiri, che torna anche quest'anno. Come invocazione di pace, in tempo quaresimale, e accompagnata dal sussidio, vivo con te, il libro della nostra preghiera. Appuntamento su Telenova, ogni giorno feriale, prima della messa in diretta dal Duomo, alle ore 7.55 circa, e la domenica, prima della messa, delle ore 9.30. La nostra impotenza non può fermarci, perché noi crediamo in Dio. Il nostro senso di inadeguatezza non può essere una ragione per l'inerzia o la viltà, perché noi crediamo nell'uomo. Chiediamo che in ogni persona c'è una potenzialità straordinaria di nuova vita, di nuovi rapporti, di nuovo futuro. Perciò preghiamo, crediamo in Dio e crediamo nell'uomo. Grazie a tutti.